Diciamo che i risultati del Consiglio europeo sono stati molto negativi per l'Italia, siamo passati da una ricollocazione obbligatoria, quello che l'Italia aveva ottenuto nel 2015 in Consiglio e in Parlamento, una ricollocazione volontaria. Abbiamo visto un'Italia più isolata, isolata sulla questione dei migranti, isolata sulla politica estera, isolata sulle questioni di diritti etici. Ci siamo ritrovati alleati di Orban e dei paesi di Visegrad, quelli che invece sono realmente i nostri paesi, quei paesi che in questi anni hanno creato più problemi all'Italia. È un problema per l'Italia, è un problema per l'Europa. Noi questo è quello che abbiamo visto e che stiamo constatando in questi giorni dentro il Parlamento europeo, dentro le istituzioni europee. non fa bene all'Europa, non fa bene all'Italia avere l'Italia fuori dai grandi giochi europei, fuori dai grandi paesi che decidono il futuro di questa istituzione.